Salve carissimi, benvenuti in quest'altro nuovo video caccia onastico. Sono Francesco Angerillo e benvenuti in quest'altro nuovo video. Ma voi vi direte, Francesco Angerillo, perché c'hai una coperta addosso? Ebbene sì, oggi è inverno e da oggi in poi sei riprendo in situazioni che fa freddo, per fortuna che ho un sacco di coperte a casa. Oggi in questo video che avete capito da quello che sto e nella copertina della foto, nell'intro e nel titolo del video. Scusatemi ragazzi, era il mio telefono. Oggi vi devo raccontarvi questo nuovo episodiello. Questo è un episodiello in cui arriva fino all'altro episodio, l'altro, che si chiama Ormai è così. E oggi ragazzi vi voglio raccontare che la parata di Babbo Natale l'hanno rimandata a questo lunedì passato. Perché mercoledì c'era stato un temporale. Però non mi fido, i temporali, quindi non lo so. Però vabbè. Comunque questo video, mo' vi racconto tutto. Mercoledì mattina stavo nel pulmino ad ascoltare un po' di musica nel telefono. E quanto probabilmente, io ho detto, beh allora nuvolosi, spero che non piove. Ma quando stasera... C'era stata la pioggia. E io ho detto, oh mio Dio. Allora, che ne so. Parliamo un po' con la professoressa. Mentre stava piovendo, il mio cellulare squilla e io rispondo. Pronto, io, dico. E al telefono era la mia professoressa d'inglese, perché era lei a organizzare la parata. E la professoressa mi ha detto, c'era stato brutto tempo, quindi la parata verrà rimandata lunedì. E io ero rimasto male, perché era mercoledì. Quindi allora, giovedì, venerdì, sabato, domenica, quattro giorni, eh, quattro giorni. Quindi decise che io aspettasse. E probabilmente all'ora di cena ricevette un'altra chiamata. Probabilmente la telefonata era sempre quella, ma probabilmente non è ancora finita qui. Sullo schermo del cellulare c'era scritto numero che deve rispondere solo la persona dell'iPhone. Era una scritta strana. E mi arrivò pure il messaggio. Prima rispondo, pronto, è della lastinga della Ringatange, l'ufficio ballerini. E mi ha detto, trovo un ballerino che deve fare le prove per il balletto di Babbo Natale. E la stringheni a Ringatange mi ha detto, un ballerino professionista come te. E ho detto, meh, io sono ballerino professionista. E quindi ho deciso di andare là. Ed era giovedì. Giovedì. Io stavo giocando con Hercules. Quando ad un tratto in camera mia, il telefono squillava. Cosa ho fatto? La prima persona ad accorgere è mia madre. C'era scritto, deve rispondere a Angerillo. E ora ha un numero sconosciuto. Quindi mi ha dato a me il telefono e ho risposto. Ed era la stranger in Ringatange. E mi ha detto, ti trovavo assolutamente. Vieni alle sei del pomeriggio a ballare. E io ho detto di sé. Finalmente ho ballato, ho ballato, ho ballato per venerdì, sabato e domenica. Ed è arrivato lunedì. Lunedì mattina stavo sull'autobus. Qua ad un tratto, carissimi caccionastici, il telefono squilla. Non era la stranger in Ringatange. Non era mia madre e mio padre. Era un numero spam. Era un numero sconosciuto. E io ho risposto. Pronto? E parlo una signora. Pronto? E ho detto sì. E si salve, la chiamo della Crediti Team a Milano. Perché quella Crediti Team era di Milano. Scusatevi che ho la tosse, vabbè. Ma mi mette la coperta. Questa signora mi ha detto. Parlo con la signorina, non dico il nome di mia madre. E io ho detto, sono il figlio. E lei mi ha detto, mi fai una cortesia? E io ho detto sì. Dì a tua madre se ha l'energia. E io ho detto, già ce l'abbiamo. Ma vada a quel paese. Ormai a me mi fanno un po' di telefonate parecchie. Saci? Te era arrivato mercoledì pomeriggio, volevo dire. Mentre noi siamo lì, io ero travestito da Babbo Natale. Non sono andato a doposcuola. Perché mi aspettano un po' di lavori. Che ne so. Al doposcuola non sono andato perché faccio la parata di Babbo Natale. Ebbene sì. Sono arrivato travestito da Babbo Natale. E gli unici bambini sono quelli che avete visto nel video. Chi quelle delle prime e chi quelle delle terze hanno detto che sono bellissimo. E noi ancora finiti da qui. Ho fatto un po' di foto con bambini piccoli. Che li ho incontrati travestiti da Babbi Natale anche loro. E io ragazzi ero felicissimo ormai. E anche se Babbo Natale... Qui si potrà avere una campanellina. No. Ormai ne sono due campanelline. Le rimettiamo a posto. Queste qui sono le campanelline che mi hanno regalato la parata per divertirmi di più. Quindi ragazzi me le hanno regalate per fare la parata di Babbo Natale. Bene carissimi il video di oggi si conclude qui. Ormai è così. Episodio perché hanno rimandato la parata di Babbo Natale lunedì. Vi ho spiegato ragazzi in questo video. Ci vediamo in un altro ormai è così in un prossimo video. Ciao ciao. Cos'è? Chi è che mi sta chiamando? Pronto? Ah stringer di cadanghe. Arrivo subito. Devo ballare io.